Concludere conquistando questa Coppa sarebbe la migliore chiusura possibile, quindi i ragazzi ci tengono anche a questa partita, ci apprestiamo a fare questo ultimo sforzo per chiudere in bellezza. Un po' stanca, doveva essere più stanca la Serenitana, ci ha giocato con noi, però secondo me hanno dato qualcosa di simile alle nostre prestazioni fuori casa, sarà che anche loro giocano sul sintetico, magari la Serenitana si è trovata più a suo agio, però ho visto una squadra che ha sofferto, anche se ha delle individualità importanti, soprattutto nel reparto avanzato, C'è due giocatori che secondo me i numeri la dicono tutta sul loro valore. Sicuramente il reparto più pericoloso è il reparto avanzato, anche se è una squadra ben organizzata. Sì, forse sì nel modulo e anche negli uomini, sia per le assenze sia per dare spazio anche a chi ha giocato di meno e vuole chiudere in bellezza anche lui questa stagione. Sì, forse sì nel modulo e vuole chiudere in bellezza.